bene ragazzi allora oggi ci troviamo qui che il bologna finalmente si sta riprendendo era ora vero ragazzi cosa dite forza bologna esatto quello sempre e niente adesso l'allenatore effettivamente ha dato una più una svolta un po giocatori che vanno in condizione tipo giaccherini tipo don sa e via dicendo e poi adesso speriamo adesso di fare un campionato di stare sempre lì a cavallo della salvezza e di tolsi qualche soddisfazione esempio la partita con la juve per esempio in febbraio che charla paga la juve non importa che lei faccia tante illusioni capito e via poi alla fine bologna alla fine ragazzi cioè inutile dai forza bologna dai dur così così va bene ok ok ragazzi questo è posto? andiamo a lavorare bene dai 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 ragazzi dai dai così così